lo scorso maggio massimiliano varrese ha pubblicato clap clap un singolo in cui parla anche della sua esperienza al grande fratello e lancia delle frecciatine l'ex gfino in un recente video su tiktok ha fatto sapere che il pezzo è entrato in una classifica indipendente clap clap fa un mese dall'uscita e oggi siamo entrati in classifica al 36esimo posto top ma non lo dite a nessuno continuate a spellarvela tra le mani grazie che pazzesco che classifica ufficiale quella di tutte le classifiche indipendenti io sono entrato in tre classifiche diverse tra cui per la musica pop al 36esimo posto con fabrizio moro in egramaro ultimo e tanti altri per me è un grande onore ed è bellissimo massimiliano varrese si esibisce in svizzera con il nuovo brano sabato scorso l'attore è stato in svizzera dove si è esibito sul palco dell'italian music festival diciamo che il pubblico non era troppo reattivo forse non conoscevano la fit indipendente clap clap nel dubbio massimiliano varrese ha cercato di fare il possibile per animare la situazione apritemi il microfono grazie ciao per me è un onore essere qui mi sa che gli italiani sono andati a casa dopo il 2 a 0 ci siete ancora e allora fatevi sentire dai su adesso voglio cantarvi il mio ultimo singolo che è appena entrato nella classifica della musica indipendente in italia non so se avete visto il grande fratello italiano no si gli italiani si perché mi hanno fermato prima questa canzone parla della mia esperienza in questo reality per la mia prima volta nella mia vita diciamo che è un po un invito a non dare retta al giudizio degli altri e ad avere il coraggio di essere se stessi e adesso ce l'ascoltiamo